Siamo con il Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, per parlare della missione della diocesi negli Stati Uniti. Eccellenza, nell'ambito di questo viaggio porterete con voi una reliquia del beato Carlo Acutis. Qual è il valore di questo gesto? Il nostro viaggio è stato richiesto e ben volentieri abbiamo dato la nostra adesione. È stato richiesto da un lato da un gruppo, un'associazione di ebrei americani interessati al nostro Museo della Memoria che ricorda quanto Assisi e in particolare la comunità cristiana ha fatto per la salvezza degli ebrei nell'epoca oscura della Shoah. E dall'altro è stata richiesta da alcuni presoli, alcune realtà interessate alla figura del beato Carlo Acutis che, come si sa, è sepolto nel santuario della spogliazione e dunque nello stesso luogo, grosso modo, in cui c'è anche il Museo della Memoria. Sicché le due realtà a prima vista così distanti in qualche modo si sono ritrovate insieme. Dico a prima vista distanti perché c'è qualcosa che le unisce come un filo rosso. Da un lato c'è la grande epopea di solidarietà, di bontà, quel grande raggio di luce che nell'oscurità di una persecuzione davvero irrazionale degli ebrei li portò in una situazione di estremo pericolo e quel raggio di luce fu l'abbraccio di Dio per queste persone attraverso l'abbraccio umano della comunità di Assisi. Ebbene, cos'è la santità? È la santità di questo giovane del nostro tempo che ha avvarcato davvero la soglia della santità attraverso la sua giovinezza luminosa, il suo sorriso pieno di Dio, la sua bontà, il suo amore per l'Eucaristia e il suo amore per i poveri. Che cos'è la santità se non un grande abbraccio? Sono realtà molto diverse di contesto e anche di espressione, ma sono realtà che portano nel fondo il filo di Dio. E dunque noi andiamo a presentare queste due cose che sono due perle del nostro santuario della spogliazione agli americani, ebrei e cattolici. E dunque speriamo di trovare anche questa unità di fondo del messaggio. In fondo vuole essere un messaggio di una bontà a 360 gradi che deve risplendere sul nostro mondo in un tempo in cui il mondo fa fatica a trovare un senso e una direzione e ha bisogno di immagini di bene. Quale immagine più grande di bene? Di una grande popera di solidarietà e di un giovane che ha donato la sua vita all'amore. Lei si aspettava un atteggiamento del genere che evidentemente è un segno di una profonda devozione nei confronti di questo ragazzo anche negli Stati Uniti. In certo senso non mi sorprende perché avevo avuto già alcuni anni fa la possibilità di parlare in America di Carlo. Ricordo bene quando fui invitato da un parroco della zona di Seattle, interessato a un nostro progetto assisano di rinnovamento della parrocchia, il quale dopo un mio incontro con le famiglie mi disse ma perché non parlare anche ai giovani? In quel momento mi venne spontaneo parlare ai giovani partendo dalla testimonianza di Francesco D'Assisi, presentandolo come il giovane convertito, ma mettendo accanto a lui anche l'immagine di Carlo. E vidi quanto i giovani americani fossero in qualche modo interessati, vedevo i loro occhi brillare di fronte alla testimonianza di Francesco e di Carlo insieme, due personalità così distanti nel tempo, ma tutte e due ancora capaci di dire qualcosa al nostro tempo. E vidi quanto Carlo fosse importante per questi giovani perché faceva sentire il Vangelo come una cosa bella, gioiosa, praticabile, qualche volta si sente la santità come qualcosa di faticoso, di elitario, fatto soltanto per alcuni e non per tutti. Invece Carlo spiega che la santità è davvero una santità possibile e praticabile, fatta anche per i giovani. Dunque già allora ebbi in terra americana la sensazione che questa bella figura è fatta per interessare e per coinvolgere. E dunque in qualche maniera non sono stato sorpreso quando in questa visita è venuto l'invito a portare una reliquia di Carlo e a parlarne ancora, ora che Carlo è beato e dunque ha un motivo in più per interessare e coinvolgere, perché è entrato già nel culto della Chiesa, se anche aspettiamo poi la universalità di questo culto con la canonizzazione. In certo senso mi ha sorpreso l'intensità, il calore di questa richiesta, ma non certamente il fatto che Carlo avesse una capacità di interessare, di coinvolgere anche il mondo americano. Papa Francesco con il cuore infranto invita costantemente i nostri ragazzi a pensare alla gioventù ucraina. Qual è il messaggio di Carlo Acutis ai suoi coetanei alla luce di quello che sta succedendo nel paese dell'est europeo? È un messaggio di speranza che passa proprio attraverso i giovani, perché quello a cui stiamo assistendo in questi giorni è qualcosa di incomprensibile, che veramente i nostri occhi non riescono a sopportare, e ha qualcosa di vecchio in sé, ci riporta una realtà che ha purtroppo segnato i secoli, i millenni, la realtà della guerra, e noi dobbiamo sperare che almeno le nuove generazioni abbiano invece il bisogno, il sentimento della pace. La pace è possibile, la pace deve essere costruita, non possiamo ritornare indietro, far ritornare indietro le lancette della storia. E quando l'umanità si ritrova ancora travolta da questa miseria, ci viene da pensare, chissà, almeno forse i giovani, i bambini, sono capaci di sognare e sono capaci di sperare un mondo migliore. Ebbene Carlo parla in modo particolare il linguaggio dei giovani e parla ai giovani, e basta guardare il suo viso per dire è un viso di pace, il sorriso di Dio si manifesta come una grande speranza per l'umanità. E dunque mettersi sulle orme di Carlo, che a sua volta sono le orme di Gesù, le orme del Vangelo, è una via, una via possibile, perché l'umanità ripensi se stessa e si ripensi in termini di un progetto condiviso di pace. In conclusioni, Eccellenza, quali sono le sue aspettative per la missione negli Stati Uniti? Intanto mi aspetto una grande esperienza di amicizia. Ho avuto già modo di incontrare alcuni di questi amici che ci hanno invitati, perché per la preparazione ci siamo visti in remoto e ho avuto già la possibilità di scoprire la loro cordialità, il loro interesse, il loro senso di famiglia. Mi sembra di andarci e di ritrovarmi già in una famiglia. Ecco, io mi aspetto questo, che i rapporti che avremo con le diverse realtà, con le diverse comunità, con diversi gruppi, anche in ambiente universitario, ci portino a stabilire un rapporto profondo di amicizia, che leghi ancora più il mondo d'America con il nostro mondo d'Assisi e soprattutto poi ci leghi tutti a una voglia di bene, a un desiderio di costruire insieme un mondo migliore. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti